chi è questo signore gianni e lui il colpevole gatti. gatti, 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 è troppo comune gatti, grazie, grazie. siamo tutti senza parole sembra quasi che si bestemmia guarda ma Gianni non c'è una volta che non si sciocca forse se non lancia il coltello e se qualcuno si lamenta sono coltellati chi sono papà l'altro? la giù il giovanotto la giù dai il giovanotto la giù portalo qua viva il giovanotto tu hai consumato energie ieri ecco qua grazie 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 a tutti.